Anche oggi, come vedete, vi saluto e vi comunico che respiro ancora. Avevo detto ai signori Parisi e anche al signor Galas che con la trasmissione di Pasqua avrei chiuso le mie opinioni perché mi sembrava di aver detto tutto, ma dopo Pasqua io ho avuto un giorno meraviglioso, sono stato così felice, così contento che ho detto Galas non posso fare a meno di venire e comunicare ai miei ascoltatori una grande notizia di un grande Papa, il più grande Papa che abbiamo avuto, il quale che cosa può aver detto? Che il sesso è un dono di Dio, finalmente ragazzi, il sesso è un dono di Dio. 500 anni dal 1500 che inarrotto le scatole con la storia del sesso. E aveva creato addirittura una disparità tra coppie, allora, che era quella che come metteva lui, metteva la mano sulla porta della camera da letto, lei rimaneva incinta e aveva un figlio. E quello, una volta che lei era incinta, chiudeva il capitolo e scopare le cucine non si scopava più. Mentre, mentre la coppia che tentava di avere figli, e figli non ne venivano perché non c'era predisposizione, quello che poteva essere, avevano la possibilità di pulire la cucina tutti i giorni, anche altre volte al giorno. Si scopava benissimo. Questa era la grande disparità. Finalmente il sesso è un dono di Dio. Ma io mi sono domandato, ma per 500 anni, perché ne avevano rotto le scatole in quella maniera lì, che non si poteva parlare del sesso, che il sesso era una roba, che insomma, che se non se aveva l'era meglio, anche se il Padre Eterno, fino a prova al contrario, ha creato il sesso per la prosecuzione della specie. Mi credo che anche la Madonna, tutto sommato, continua a dire che l'era vergine, che l'era vergine, che l'era vergine, meno, sono da quel parere lì, e penso che anche la vergine abbia avuto dei bellissimi rapporti sessuali, perché fino a prova al contrario, il sesso è un dono di Dio. Allora, se guardiamo anche la Bibbia, non mi pare che quei della Bibbia fossero dei santi, no? Perché Davide non so quanti fiori che aveva, Abramo aveva un fiorco di una che poi l'ha mandata via, eccetera. E come mogli mi pare che ci avevano un certo seguito, secondo la Bibbia. Ma la Bibbia viene citata a seconda di che fa comodo, no? Siccome la storia del sesso è stata questa grande battaglia, io credo che finalmente questo Papa sia un Papa da guardare con molta simpatia e molto orgoglio. Mi personalmente, guardi, lo adoro, perché il sesso fa passare degli anni bruttissimi. Mi credevo di diventare cieco perché ero convinto che ormai, dico, mi perdo la vista, è morta lì. Per fortuna che vedo ancora, in compenso sono diventato sordo, ma non mi pare che fosse una colleganza col sesso e la sordità. Non mi pare. Comunque, il sesso è un dono di Dio, finalmente. Pensate, pensate. Vi voglio fare un flash di come era considerato il sesso ai miei tempi. Allora, a parlare di mestruazione non si parla. Un giorno una mia amorosa telefona mia madre e gli dice, Signora, le dispiace dire a Carlo che oggi non posso venire da lui perché ho le mestruazioni? Arrivo a casa, apro la porta e vedo in fondo al corridoio mia madre in atteggiamento di guerra. Dice, oh, che cosa avronde fatta? Ho fatto un esame di coscienza rapido, non mi sembrava neanche niente. Chi è quella sgualdrina che si è permessa di telefonare a tua madre e dire che ha le mestruazioni? Ve basta, non vado oltre. Questo era il clima. Allora, finalmente è arrivato uno che ha detto che il sesso è un dono di Dio. Ragazzi, esultiamo, stiamo contenti e per oggi basta così. Ragazzi, esultiamo, stiamo contenti e per oggi.